Sigilli alla Cantina del Primitivo, una cantina vinicola di Sava che ricade però nel territorio di Manduria, sequestrata dalla Guardia di Finanza per gravi carenze igienico-sanitarie e per abusivismo edilizio. Rischia di essere infetto il vino prodotto nell'azienda. Basti pensare che l'acqua di scarto dell'attività, quindi acqua sporca, era versata nel terreno adiacente alla cantina. La produzione è stata immediatamente sospesa, l'impresa finita sotto la lente delle fiamme gialle, ma anche degli ispettori della ASL di Manduria, soltanto con l'ultimo raccolto avrebbe lavorato 20.000 quintali di Primitivo. I fatti accertati, spiegano i finanzieri, costituiscono un concreto pericolo per la genuinità del prodotto vinicolo e la salubrità delle falde acquifere ed un grave danno agli interessi e alla salute dei consumatori e dei cittadini dell'area messapica. A fronte delle condizioni igieniche davvero scarse e della scoperta che parte della struttura era stata pergiunta costruita senza autorizzazioni, il titolare dell'azienda ha rimediato così una denuncia a piede libero e ora è indagato per i reati ambientali e per abusivismo edilizio. La società savese è controllata da un gruppo toscano e non si limitava solo alla produzione del vino, ma anche alla vendita del prodotto.